Caravaggio è un pittore meraviglioso, è la sua vita che è sporca. Nell'ombra di Caravaggio tu racconti una Roma splendida ma anche molto decadente, no? Perché in quegli anni era in questo modo. Adesso, al di là di Roma, il tempo che viviamo come lo vedi tu? Beh, ma io sono sempre un ottimista, pessimista per le mie cose personali, ma ottimista per il mondo. Io penso che dobbiamo vivere l'epoca che ci viene donata, che è piena di contraddizioni incredibili. Però, se guardiamo la storia del passato, forse abbiamo avuto periodi ancora più negativi, se pensiamo al nazismo, al fascismo, alle guerre, ma fino a poco fa, insomma, in Estremo Oriente, in Iraq, soprattutto Afghanistan, insomma, bisogna sempre capire che non bisogna vivere solo l'Italia, ma bisogna un attimo stare lì, in quelle nazioni dove veramente sono venute stragi incredibili, di popolazioni in Ermi, in Libia anche. Io mi ricordo quando il Papa Giovanni Paolo II disse cercò di fermare la guerra in Iraq, e disse no, non alla guerra, non alla guerra, perché poi da lì nasce un fermento politico che invece che la democrazia porterebbe una guerra continua, ma ancora c'è quella guerra. Lo dice anche oggi Papa Francesco, tra l'altro il suono alla guerra. I tuoi cinque figli, tre di loro, poi lavorano nel mondo del cinema, quindi sei ottimista anche per loro, insomma. Certo. Beh, noi siamo una piccola azienda familiare che adesso, grazie a Caravaggio, speriamo di diventare un po' più, di salire qualche gradino, e tutti hanno sempre eseguito il mio lavoro, i ragazzi, sempre nei teatri, che hanno, da quando ero giovanissimo, insomma, da violante, con giovane viola, e vissuta in teatro, veniva in tournée con me, e poi anche Breno, e Michelangelo, più piccolo, grazie a Dio, no, ma... Per ora, per ora. No, perché non è un mestiere da raccomandare il nostro, perché è un mestiere precario, insomma. Puoi vivere all'ombra, a proposito di ombra, di un padre che, in qualche modo, diciamo, ce l'ha fatta, e loro sono ancora in fase di fare, e non è facile.